Il tema era generale ed era riqualificazione urbana, portaci le tue idee. Mi auguro che possa servire l'amministrazione comunale, sicuramente è servita ai cittadini, penso, per discutere, per prendere anche coscienza di determinati problemi che ci sono, che alle volte rimangono a livello latente, proprio perché non se ne parla, proprio perché non si ha il modo di scambiarsi delle idee e delle opinioni. Accidenti se potrà essere utile per il fatto che la partecipazione è una cosa poco consueta. Tutti quanti cercano di defilarsi, no? E io non sono una di quelle, chiaramente. Io sono una che partecipa parecchio, partecipo e sono contenta di aver potuto partecipare. Mi è spiaciuto che alcuni gruppi si sono sovrapposti perché avrei partecipato ancora di più. Un'utilità c'è sempre quando delle idee vengono messe insieme, anche se gioco forza, essendo una prima esperienza, in maniera anche un po' disorganizzata. Però il principio è valido e sicuramente da qua può sbocciare qualche cosa di utile e di supporto anche all'amministrazione. Benissimo, una bella idea. Spero che queste poi idee che abbiamo anche concretizzato vadano oltre. può offrire un'opportunità per il futuro. Si spera che ci sia l'amministrazione a sostenere. Una straordinaria partecipazione, per quanto mi riguarda, assolutamente inaspettata. Non sono tanto convinto che questo porta aperte verso l'amministrazione sia efficace, sia una vera volontà e non sia solo una facciata. perché noi come Comitato Casella Albamare cinque anni fa abbiamo raccolto 5.300 firme dei cittadini e quindi credo che siamo un comitato altamente rappresentativo della volontà dei cittadini. L'amministrazione Berruti ha approvato il Casella Albamare all'unanimità ma poi non ha fatto nulla. Siamo leggermente poco propensi a credere a questa porta aperta e parliamoci che ne succederà qualcosa di buono. Le opportunità ci sono senz'altro perché quando i cittadini in qualche modo sono convocati per parlare di quella che ha la loro visione della città è senz'altro un effetto positivo. Poi bisogna vedere anche di riuscire a capire che siccome le risorse magari non sono molte ci sono delle cose che si riusciranno a fare con nessuna spesa, basta tenerla in ordine pulita, altre cose che con piccoli interventi si riescono a recuperare e ci sono poi dei discorsi di lungo periodo che bisogna intravedere dove bisogna spendere, bisogna investire parecchio. Le impressioni sono molto positive, quasi 200 persone oggi un sabato hanno deciso di dedicare un po' del proprio tempo non per le proprie necessità, non per i propri bisogni ma per la collettività, per la città di Savona e quindi è veramente questo il senso della partecipazione, perdere un po' del proprio tempo ma per fare qualcosa per la nostra città, portare delle idee perché poi alla fine così girando un po' nei vari gruppi di lavoro la cosa molto importante è stata quella di contribuire a realizzare una città. Alla giornata mi sembra che sia andata abbastanza bene, anche se chiaramente preghiamo lo scotto forse di iniziative mai fatte e quindi così da sperimentare. La partecipazione è stata tanta, i partecipanti mi sembrano interessati, i temi sono insomma di rilievo. Sì, penso che i tempi siano maturi, abbiamo visto le esperienze dell'anno scorso con il referendum dell'acqua quando molti comitati si sono riuniti spontaneamente, l'abbiamo visto nelle elezioni amministrative di Milano, di Genova quest'anno quando a fianco dei partiti sono nati dei movimenti dal basso proprio con nuove idee per spingere i candidati sindaci rispettivamente, per esempio di Milano e Genova ma anche in altre città. Credo che la voglia di partecipazione come adesso non ci sia mai stata ultimamente. Per quanto riguarda il verde la questione non mi preoccupa minimamente perché il Comune con ATA ha un rapporto, ha un ottimo rapporto ogni volta che chiamiamo questa azienda e viene a controllare sia il verde che la qualità urbana nel senso di qualità di pulizia delle strade eccetera. Le altre proposte che verranno fuori oggi dalla Open Space Technology saranno valutate da un forum tematico che guarderà se queste proposte sono realizzabili, se non sono realizzabili dovrà dire la motivazione, cioè se per motivi di bilancio o per motivi normativi, dopodiché tutto andrà nella giunta comunale, alla giunta comunale e lì diciamo che ci sarà da dare una prova di maturità politica, cioè la giunta dovrà far sì che le voci dal basso, i suggerimenti dal basso abbiano una continuazione con dei provvedimenti. La popolazione va promossa? Sicuramente sì, insomma 200 persone sono un bel numero. Cittadinanza promossa. Grazie. 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 Grazie.